Chi sono i clienti di TS? Ne parliamo con Vittorio Moscatelli, direttore commerciale della società. I nostri principali clienti sono aziende, quindi mercato corporate. Noi attualmente abbiamo una base installata intorno alle 400.000 unità presso le principali reti corporate italiane e i settori presso i quali operiamo vanno dalla grande distribuzione all'industria, ai servizi, alle utilities, alla pubblica amministrazione. Quindi direi che possiamo senz'altro annoverarci tra i principali fornitori di connettività presso aziende che operano appunto nel campo della distribuzione di beni e servizi e quando parlo di beni e servizi lo parlo in termini generali, quindi sostanzialmente dalla grande distribuzione nel food, nell'alimentare, nel campo della distribuzione dell'energia, dei carburanti, piuttosto che non in quella grandissima rete che è costituita dalle aziende che operano su base e concessione dei monopoli di Stato. Secondo gli ultimi dati di Confindustria ci sono circa 120.000 punti di presenza gestiti da aziende quali Lottomatica, piuttosto che non SNAI, SISAL, presso i quali noi credo che vantiamo quasi un 50% del mercato. Quando questi prodotti si offrono ai clienti, la italianità diventa un fatto, diciamo, di vantaggio, un fattore competitivo o crea qualche sbigottimento per la quasi la insolenza commerciale di voler spodestare i grandi giganti americani o cinesi del networking. Diciamo che questo atteggiamento probabilmente c'era qualche tempo fa, effettivamente qualche anno fa, diciamo che il nostro approccio estremamente aggressivo e competitivo ha creato qualche imbarazzo presso grandi brand e grandi nomi che occupavano determinate posizioni sul mercato. Ma gradualmente questo fenomeno si è molto ridotto e direi che adesso noi siamo, proprio con le caratteristiche che lei citava, quindi col fatto di avere il progetto e il prodotto completamente italiano, assolutamente apprezzati come una realtà che sa coniugare quindi la progettualità e quindi la capacità di essere flessibili e vicini alle esigenze del cliente da un punto di vista sia di progetto cliente che di innovazione, alla possibilità di avere la qualità e la solidità dei processi produttivi che sono consentiti appunto dal fatto di controllare completamente in casa anche la realizzazione del prodotto. E quindi questa abilità nostra che abbiamo raggiunto nel coniugare progetto e prodotto effettivamente si è tradotto in un vantaggio competitivo che il mercato ci riconosce sempre di più. Vorrei ripetere la stessa domanda però proiettata verso i mercati esteri e quando invece offriamo della tecnologia italiana cosa può accadere o cosa accade concretamente a TS? Ma probabilmente da questo punto di vista c'è ancora molto da fare, nel senso che noi stiamo molto apprezzando gli sforzi che il sistema paese e i rappresentanti del sistema paese stanno facendo per promuovere l'immagine e il brand del made in Italy. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, probabilmente negli ultimi tempi l'Italia sta effettivamente riguadagnando campo e credo che con esso anche tutta l'italianità. Per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia noi stiamo cercando di fare leva sulla presenza dei nostri clienti che si stanno affermando all'estero. Uno dei nostri principali clienti, come sapete, è l'Enel. L'Enel è un'azienda che effettivamente ha fatto shopping all'estero, soprattutto in Spagna e in America Latina e quindi noi stiamo cercando di sfruttare la nostra grande presenza presso a questo cliente per poter anche raggiungere i mercati esteri. Direi che questo è uno dei nostri obiettivi che vogliamo perseguire nel corso dei prossimi anni. Grazie a Vittorio Moscatelli, direttore commerciale di TS Ivrea. Grazie a lei.